Musica Più fiducia alle persone, più valore ai territori, le cooperative di comunità come modello di rigenerazione sociale ed economica. Se ne è discusso nella sala Quirino Led nella sede di Lega Cop Calabria questa mattina. Ad aprile lavori il presidente di Lega Cop Calabria Lorenzo Sibbio. Sono seguiti gli interventi del vice presidente Maurizio De Luca che ha relazionato sul tema le cooperative di comunità modello di sviluppo territoriale. A seguire anche Maria Antonietta Mazzei di Banca Etica e Francesca Falcone presidente di Lega Ambiente Calabria. Allora oggi siamo qui in Lega Cop per parlare di cooperative di comunità. È un appuntamento che nasce dopo la promozione del bando da parte di Lega Cop e di Copfondo che è l'istituto che regola il fondo mutualistico per le cooperative aderente Lega Cop, del bando Cop Startup Rigeneriamo Comunità. Cosa sono le cooperative di comunità? Sono un nuovo modello che ormai vengono attenzionate da Lega Cop da oltre dieci anni. E sono delle cooperative che si muovono su due pilastri fondamentali. Da una parte il coinvolgimento di tutti i cittadini, dell'istituzione, degli enti, dell'associazione di un territorio nell'attività imprenditoriale specifica di produzione di beni e servizi. Dall'altra il proseguimento di obiettivi generali che hanno a che fare con il benessere della collettività e della comunità locale. Quindi spingono a valorizzare un territorio sotto l'aspetto naturatistico, sotto l'aspetto agricolo, sotto l'aspetto turistico ma anche sotto l'aspetto spesso dell'utilizzo dei beni comuni. Quindi l'obiettivo fondamentale di queste cooperative è quello di recuperare il degrado sociale di un territorio e un territorio spesso abbandonato anche a rischio spopolamento, favorire che questo spopolamento non avvenga ma ci sia una maggiore attenzione su quello territorio e si crea anche un'economicità non solo dal punto di vista reddituale ma anche dal punto di vista sociale e abitativo.